Brand che stanno cavalcando TikTok e perché? Parliamo di Pretex Design. Questa è un'azienda abbastanza giovane su TikTok, ma subito si capisce l'enorme potenzialità. È un'azienda che produce particolari meccanici con macchine a controllo numerico. Il massimo dell'industria. I loro contenuti sono davvero efficaci perché si rivolgono a tutto il mondo. Non essendoci spiegazioni o voiceover, il pubblico da raggiungere è l'intera popolazione di TikTok. Ma l'aspetto che mi ha colpito di più è la musica scelta. Avvienono sempre musica classica con pianoforte a questi video. Avete mai sentito un CNC in azione? Il rumore che fa una punta che mangia un pezzo di metallo? Qui ogni produzione viene trasformata in opera d'arte, accompagnata da una musica classica davvero rilassante. Veramente ben fatto. Se vuoi vedere un'azienda che cavalca TikTok nel tuo settore, scrivimelo nei commenti.